Ieri a Montecatini si è votato per le primarie del centro-destra. Riccardo Sensi ha raccolto oltre il 65% dei voti e si prepara alla sfida per la conquista del Comune. La consultazione organizzata ieri ha riscosso un successo senza precedenti in città con 1.401 partecipanti, superando di oltre 100 voti quella organizzata dal PD che ha visto la vittoria di Matteo Renzi per la segreteria. Sensi ha ottenuto 917 voti, mentre il suo sfidante Pierpaolo Blasi si è fermato a 462. La prima vincitrice, ha detto Sensi, una volta ufficializzato il risultato, è la città che ha dato prova di voler partecipare alla cosa pubblica in modo concreto. Intanto l'attuale sindaco della città termale, Giuseppe Bellandi, della PD, ha ufficializzato la sua ricandidatura alla carica di primo cittadino per la coalizione di centro-sinistra. In questi cinque anni la maggioranza che lo ha sostenuto era formata dal PD e da una lista civica. Il suo nome è conosciuto per essere stato quello del sindaco che ha portato Miss Italia per due anni consecutivi a Montecatini e che ha avuto l'idea originaria da cui è partita la conquista ai mondiali di ciclismo Toscana 2013.